Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Il protagonista dei casi di oggi, perché parleremo di ben due delitti, è Giuseppe Piccolomo. Partiamo immediatamente. Giuseppe Piccolomo, detto Pippo, nasce a Corato, un comune della città di Bari, capoluogo della Puglia, il 29 aprile del 1951. All'età di 11 anni conosce Marisa Maldera, che all'epoca ha appena nove anni. I due si mettono insieme fin da giovanissimi e a 16 anni Marisa partorisce la primogenita. Nunzia, dopo tre anni, danno alla luce la seconda figlia, Cinzia. Nel 1971 la famiglia si trasferisce a Varese. A questo punto ci tocca fare un enorme balzo in avanti, perché purtroppo non ho trovato alcuna fonte riguardo alla vita familiare di Piccolomo, o meglio, non ho reperito informazioni lineari, quindi arriviamo al 2003. Giuseppe Piccolomo e sua moglie Marisa Maldera sono proprietari di un ristorante, una pizzeria, a conduzione familiare a Caravate, un piccolo comune in provincia di Varese. Anche Nunzia dà una mano al ristorante, ma sabato 15 febbraio la ragazza litiga pesantemente con suo padre. Giuseppe le dice di non mettere mai più piede nel locale. È la notte di mercoledì 19 febbraio, quando Nunzia riceve una telefonata da sua madre alle 22 circa. Marisa le chiede di andare al ristorante il giorno seguente. Nunzia per scrupolo chiede a sua madre se anche suo padre ne sia al corrente, oppure se sia una sua iniziativa. Marisa le risponde che anche Giuseppe è d'accordo perché sono previsti parecchi clienti. Giovedì mattina alle 7 suona il telefono di Nunzia. Appena le risponde sente la voce di un carabiniere il quale le informa che i suoi genitori hanno avuto un incidente. Cinzia viene avvisata direttamente da sua sorella Nunzia. Cinzia, appena presa la notizia, va in panico perché ama follemente sua madre. Nunzia quindi si rimette in contatto con il carabiniere per avere delle informazioni sullo stato di salute di sua madre. Ed è allora che l'uomo risponde che Marisa sta male ed è necessario che vadano al pronto soccorso. Dunque Nunzia chiama Cinzia di nuovo per aggiornarla sulle ultime terribili novità. Cinzia adesso è ancora più spaventata perché intuisce dalle parole di Nunzia cos'è successo e condivide questo pensiero con sua sorella. La madre Marisa è morta, le figlie si aspettano che verrà loro comunicata la tremenda tragedia faccia a faccia. Disperate le due sorelle piccol'uomo si dirigono all'ospedale e chiedono di poter vedere la madre seppur non in vita. Ma le infermiere rispondono a entrambe che purtroppo non potranno rivederla perché la madre è morta carbonizzata a seguito di un incidente stradale drammatico quanto misterioso. Nella macchina infatti era presente una tanica di benzina. Ovviamente nessuna delle due era al corrente di questa ennesima tragica situazione. È così che distinto e entrambe esclamano è stato lui riferendosi al padre perché la tanica di benzina era l'oggetto di una minaccia che Giuseppe faceva spesso. Nunzia lo sente dire fin da piccola la frase non ci metto tanto a tirarti una tanica di benzina e a darti fuoco. Cinzia fin da subito non crede alla versione dell'incidente. Rimarca che da sempre a ogni discussione che scoppiava tra la madre e il padre quest'ultimo era solito dire stai tranquilla che ti butto una latta di benzina addosso il fuoco non lascia prove. D'altra parte Giuseppe Piccolomo fornisce una versione ben diversa. La sera del 19 febbraio Giuseppe e Marisa chiudono il ristorante verso l'una di notte. Dopodiché Giuseppe si dirige alla stazione di servizio per il rifornimento di benzina. vuole fare un favore a suo figlio che avrebbe dovuto usare la macchina il giorno successivo. Quindi prende una tanica, la riempie e la mette dietro il sedile in cui è seduta sua moglie. C'è però un problema perché emerge un contrasto proprio riguardo a quella tanica di benzina. In aula durante il processo come appena detto Piccolomo sostiene di essersi fermato per riempire una tanica di benzina col fine di fare un favore a suo figlio. Giuseppe Piccolomo però a sua figlia Cinzia aveva raccontato un'altra versione. Le aveva spiegato che aveva sì fatto il pieno della macchina ma il serbatoio non poteva contenere tutta la benzina quindi quella rimanente l'aveva versata in una tanica però era consapevole che quella tanica fosse già difettata. La tanica Giuseppe l'ha messa dietro al sedile di Marisa e non nel bagagliaio per evitare che cadesse e la benzina si rovesciasse. Giuseppe continua a spiegare che mentre erano in macchina si era reso conto che dalla tanica di benzina stava fuoriuscendo il liquido ma nonostante ciò Marisa si era accesa una sigaretta. Giuseppe però sottolinea che gliel'aveva fatta buttare via all'altezza del comune di Gemonio. Nel frattempo la benzina aveva riempito tutto il sedile fino ad arrivare a toccare i piedi di Marisa. Ebbene secondo Giuseppe Marisa 100 metri più avanti si era accesa un'altra sigaretta. Quindi in base alla sua versione questa donna avrebbe acceso una sigaretta in macchina mentre viaggiava con i piedi immersi nella benzina. Credo sia evidente che questa ricostruzione di Giuseppe è piuttosto insensata. Ma proseguiamo. A questo punto Giuseppe sostiene che nel tentativo di afferrare la seconda sigaretta per buttarla fuori dal finestrino aveva sterzato bruscamente il volante finendo in un prato. Giuseppe aveva chiesto a sua moglie Marisa se stesse bene. La donna gli aveva risposto in modo affermativo. lui era uscito dalla macchina e appena aveva appoggiato i piedi a terra la macchina aveva preso fuoco. Ci sono però dei testimoni oculari che abitano nei pressi del luogo dell'incidente. Una signora sostiene che aveva sentito delle urla di una donna e che aveva notato un grande bagliore dalla finestra della sua camera. Quando si era affacciata aveva visto una vettura in fiamme e un uomo inginocchiato a terra che urlava «amore mio che brutta fine che hai fatto!» Un altro testimone sostiene che era stato svegliato dal citofono. Quando aveva risposto aveva sentito un uomo che chiedeva aiuto. Era sceso e aveva tentato di metterlo in guardia perché continuava ad avvicinarsi alla macchina. Ormai totalmente in fiamme. La domanda è Giuseppe ha piccato il fuoco volontariamente per uccidere Marisa Maldera, sua moglie? I testimoni non sanno rispondere a questa domanda. Infatti se da un lato il comportamento di Giuseppe nell'immediatezza era sembrato quello di un uomo disperato che cercava in tutti i modi di salvare la propria moglie dall'altro lato tale comportamento potrebbe essere il risultato di una messa in scena per ritardare l'arrivo dei soccorsi magari. A questo punto erano state chiamate le forze dell'ordine che avevano tentato di avvicinarsi alla macchina ma ormai la vettura era totalmente avvolta dalle fiamme che avevano raggiunto un'altezza di circa 5 metri. I carabinieri avevano notato immediatamente Giuseppe Piccolomo era posizionato davanti alla portiera del guidatore e si prodigava per tentare di estrarre sua moglie da quella macchina ormai in fiamme. O forse fingeva. Mentre le forze dell'ordine si avvicinavano non sentivano Giuseppe Piccolomo imprecare ma anche dei rumori di parti di motore che stavano esplodendo. Quindi i due carabinieri lo avevano preso con forza e sollevato per portarlo in una stanza sicura a distanza di diversi metri dalla macchina. I vigili del fuoco quando erano arrivati sul posto avevano trovato una macchina completamente avvolta dalle fiamme dunque avevano estinto l'incendio e in mattinata avevano estratto il corpo di Marisa che presentava un'ustione completa almeno fino al piano muscolare. Era seduta sul lato del passeggero con la testa verso il volante le braccia erano poste verso la portiera del conducente. Erano riusciti a estrarre il corpo solo dal lato del guidatore perché la portiera dal lato del passeggero era ormai impossibile da aprire. A questo punto Giuseppe era stato soccorso dal personale del 118. Era fortemente agitato e ansioso ma non gli era stato somministrato alcun sedativo sul posto. I soccorritori non ricordano di aver dovuto medicare particolari bruciature quindi non c'erano lesioni significative riportate da Giuseppe Piccolomo. Quando Cinze e Nunzia erano arrivate all'ospedale avevano scrutato il padre era sdraiato su una barella ma non aveva segni di bruciatore. Ma non solo non aveva né i capelli né i vestiti bruciati. Infatti Nunzia gli aveva chiesto ripetutamente come mai lui fosse uscito quasi illeso dall'incidente mentre la madre era morta carbonizzata ma Giuseppe non ha mai risposto alla figlia. I giornali in effetti avevano riportato che Giuseppe nel tentativo di salvare la moglie avesse riportato numerose ferite e bruciature alle mani. Cosa assolutamente falsa stando alla versione di sua figlia Cinzia. La donna racconta che un giorno aveva trovato suo padre in cucina dove avevano dei riduttori dei fuochi posti sui fornelli. Spiega che il riduttore era rovente ma suo padre lo toccava appena per poi allontanare la mano. Cinzia dunque gli aveva chiesto cosa stesse facendo e lui le aveva risposto volevo vedere cosa ha provato la mamma nelle fiamme. Cinzia aveva dedotto che stesse provando a procurarsi delle ustioni perché le mani erano prive di qualsiasi segno di bruciatura ma sui giornali come già vi ho detto c'era scritto che l'uomo aveva le mani totalmente ustionate per il tentativo di salvare sua moglie. Prima del funerale parenti e conoscenti erano andati a casa della famiglia Piccolomo per fare le condoglianze e Giuseppe indossava sempre i guanti probabilmente per far credere che fosse ustionato. Il giorno del funerale di Marisa Giuseppe era andato dal barbiera a tagliarsi i capelli dicendo alle figlie che in realtà erano bruciati. Il giorno del funerale si era presentato con addosso dei guanti e un giubbotto rossofuoco un colore che in effetti richiama le fiamme e sua moglie era morta, bruciata viva. Potrebbe essere una coincidenza? Assolutamente sì ma personalmente vi assicuro che se avessi perso, mio caro, in quelle modalità il rosso e le sue sfumature sarebbero stati gli ultimi colori che avrei voluto vedere addosso un familiare. Questo ovviamente è solo una mia osservazione data dalla mia sensibilità. Nei primi due mesi dopo la scomparsa di Marisa le figlie avevano chiesto a Giuseppe più volte di spiegar loro in che modo fosse morta la madre. Speravano che tra un racconto e l'altro cambiasse versione cadendo dunque in contraddizione perché né Nunzia né Cinzia credevano alla versione dell'incidente. Nunzia infatti in una delle tante discussioni aveva chiesto a suo padre perché non avesse spaccato il vetro del passeggero per tirarla fuori. L'uomo aveva risposto che non ci aveva pensato per poi aggiungere che in effetti se avesse trovato una pietra avrebbe potuto utilizzarla a tal fine. Nunzia aveva insistito dicendo che c'era la portiera aperta dal lato del guidatore quindi il padre avrebbe potuto tirarla fuori da lì o almeno tentare di farlo. Giuseppe le aveva risposto dicendo esattamente queste parole. Eh! Ma come faceva a tirarla fuori? Era grassa come un maiale. Ora secondo voi un uomo addolorato per aver perso sua moglie? Risponde così a me dispiace ma non credo proprio. Per di più vedere tua moglie che muore bruciata viva a mio avviso è un trauma quasi insuperabile. E infatti Giuseppe ci aveva provato a recitare la parte del marito sotto shock nei giorni successivi all'incidente ma Cinzia sua figlia sostiene che forse avrebbe potuto fregare altre persone ma non lei. L'aveva osservato molto ma molto bene non aveva mai e poi mai visto suo padre in stato di shock. Aggiungo io che se poi qualche mese dopo parlando con le tue figlie ti viene spontaneo addirittura rispondere con una frase del genere che non voglio ripetere c'è davvero del marcio sotto. Per di più un paio di anni prima Marisa aveva avuto un incidente in Tunisia. Erano in vacanza insieme Giuseppe Marisa Nunzia e la figlia di Nunzia che al tempo aveva 4 anni. In pratica era previsto un matrimonio tipico tunisino nell'hotel in cui alloggiavano e gli sposi avevano chiesto a Nunzia se sua figlia di 4 anni Francesca potesse fare la damigella perché era una bambina molto bella. Erano tutti ad aspettare la sposa c'era tanto vento e delle torce accese. Marisa era girata stava guardando Francesca la sua nipotina Nunzia nel frattempo aveva visto un cameriere buttare qualcosa sopra una torcia per ravvivare la fiamma. Era arrivata una forte folata di vento che aveva sollevato una vampata intensa tanto che Marisa si era bruciata. I vestiti che aveva addosso stavano andando a fuoco fortunatamente lì c'erano un centinaio di persone che erano corse in suo soccorso quando era tornata dalla vacanza parlando con sua figlia Cinzia aveva detto deve essere brutto morire nelle fiamme col fuoco però probabilmente non era il mio destino tradotto? Marisa aveva paura del fuoco dopo quell'esperienza mai si sarebbe accesa una sigaretta nell'abitacolo dell'auto con della benzina rovesciata sul pavimento. c'è però un altro problema non è assolutamente chiara la dinamica dell'incidente se non il forte convincimento delle figlie che a uccidere Marisa Maldera sia stato Giuseppe Piccolomo il loro padre a questo punto vengono fatti degli esperimenti per verificare la versione fornita dall'imputato ossia che da una tannica difettosa erano fuoriusciti circa 8 litri di benzina che si erano incendiati a causa di una sigaretta così dopo l'acquisto di due auto identiche a quelle di Piccolomo si eseguono delle prove tecniche il luogotilente dei carabinieri spiega che hanno effettivamente fatto un esperimento tecnico ha pensato di bruciare le auto comprate nella stessa sequenza ricostruita dall'imputato i carabinieri ingaggiano il gruppo di artificieri dei vigili del fuoco di Roma e all'interno di una cava a Caravateri creano quelle situazioni che avrebbero dovuto innescare l'incendio della macchina 8 litri di benzina in auto detonano davvero ebbene 8 litri di benzina all'interno della macchina a stento prendono fuoco perché manca l'ossigeno e soprattutto non è sufficiente una sigaretta per appiccare quell'incendio la benzina certo si infiamma ma impiegherebbe troppo tempo per realizzare quella detonazione dichiarata dall'imputato dunque in base a questo esperimento la macchina prende fuoco ma nel giro di mezz'ora viene quindi smentita la versione fornita da Giuseppe Piccolomo secondo la quale l'abitacolo è stato immediatamente avvolto dalle fiamme tanto da impedirgli di soccorrere la moglie e allora si procede eseguendo un altro esperimento per verificare le condizioni in cui si sarebbe realizzato il resoconto riportato dall'imputato il luogotenente dei carabinieri spiega di aver recuperato una Ford Focus e una Station Wagon dalle stesse dimensioni ma non simili lo ha fatto per tentare di riprodurre quella detonazione sostenuta dall'imputato in così breve tempo la benzina questa volta viene versata un po' ovunque sui sedili anteriori posteriori e sul pianale dell'auto si attiva l'inesco ad altezza volante che questa volta produce un lampo di fuoco la macchina in questo caso è detonata e come ma ci sono delle differenze rispetto alla versione che ha effettivamente dato Giuseppe Piccolomo prima di tutto hanno aperto anche le portiere posteriori e non solo quella anteriore del guidatore inoltre l'innesco non era stato generato da una sigaretta ma da una fiamma viva libera ma di fatto dalle foto allegate dal rapporto dei carabinieri si apprende che la macchina di Giuseppe Piccolomo non aveva aperta soltanto la portiera del conducente che l'uomo ammette di aver spalancato ma anche quelle posteriori erano state aperte questo vuol dire che è molto probabile che quando l'imputato aveva commesso l'azione volontaria di appiccamento del fuoco fosse sceso dalla macchina e avesse aperto anche le porte posteriori il motivo? una maggiore ossigenazione dell'ambiente avrebbe portato a una più rapida e intensa manifestazione del fuoco quindi secondo l'accusa Piccolomo ha versato una tanica di benzina in tutto l'abitacolo ha dato fuoco e ha aperto tutte le portiere affinché l'ossigeno alimentasse le fiamme mentre secondo la difesa sono trascorsi troppi anni per poter escludere che le portiere non siano state aperte dagli stessi soccorritori ma c'è un altro dato da esaminare l'imputato riferisce che la macchina si era ribaltata più volte prima di fermarsi e anche su questo elemento vengono fatte delle prove tecniche sono state quindi acquisite una serie di prove di ribaltamento sui veicoli che sono state poi rapportate ai danni del veicolo di Giuseppe Piccolomo dopo un ribaltamento di questa tipologia quindi di due giri la macchina presenta un grado di demolizione parecchio significativo e questo grado di demolizione viene confrontato con quello della Volvo di Piccolomo dopo l'incidente il carrozziere che poi aveva recuperato l'autovettura sostiene fosse carbonizzata ma intera nelle sue componenti non c'erano segni visibili di una botta ricevuta non era schiacciata l'esito di questa verifica è lampante la Volvo oggetto di questo sinistro non si è ribaltata a questo punto è giunto il momento di farci una domanda ben precisa come era il rapporto tra Marisa e Giuseppe? Cinzia sua figlia lo descrive come un rapporto strano particolare si conoscevano da davvero tanto tanto tempo erano cresciuti assieme praticamente si capivano col pensiero i due comunicavano anche solo attraverso uno sguardo ma il loro rapporto era fortemente instabile ed è così triste pensare alla fine che ha fatto Marisa Marisa in effetti è una donna molto ingenua molto affabile Nunzia la descrive come una persona fantastica un'amica di famiglia sostiene che Giuseppe aveva un carattere un tantinello fumantino si innervosiva facilmente e a quanto dice questa donna quando lui apriva bocca e si dimostrava un po' più autoritario Marisa la chiudeva Cinzia durante il processo dice alcune volte era anche brillante e simpatico però aggiunge poi d'improvviso gli bastava un niente uno sguardo e magari alzava subito le mani un vicino di casa della famiglia dice che non può dare per certo che Giuseppe picchiasse sua moglie ma di tanto in tanto vedeva la donna scappare dalla cucina fino al terrazzo e a quel punto aveva immaginato che Marisa tentasse di scappare da Giuseppe che probabilmente era diventato aggressivo inoltre lo stesso vicino di casa sostiene che in una sola occasione aveva notato dei lividi all'altezza del collo di Marisa ma sul carattere violento e instabile di Giuseppe capace di passare senza soluzione di continuità dall'arrabbiatura a uno slancio affettivo e quindi in pratica capace di tutto continuano a parlare le figlie dell'uomo non si racconta che quando frequentava la prima media non era una bambina molto felice non andava affatto bene a scuola prendeva sempre dei brutti voti e proprio non riusciva a migliorare verso la fine dell'anno scolastico Giuseppe le aveva detto quando vai a vedere i quadri e se non sei promossa vai in stazione a Coquio Trevisago e buttati sotto un treno non si era andata a scuola e aveva scoperto che era stata bocciata ma fortunatamente non aveva avuto il coraggio di buttarsi sotto al treno era tornata a casa e Giuseppe al suo rientro le aveva regalato un paio di orecchini d'oro questo dimostra quanto Giuseppe piccolomo fosse instabile prima dici a tua figlia di buttarsi sotto ad un treno se viene bocciata e poi le regali degli orecchini d'oro un comportamento a dir poco assurdo Giuseppe era un padre pessimo le discussioni in casa c'erano per qualsiasi cosa una volta non si aveva preso un sacco di botte perché aveva lasciato nel piatto un pezzettino di gorgonzola secondo Giuseppe avrebbe dovuto finirlo quindi senza neanche spiegarle in cosa stesse sbagliando aveva iniziato a picchiarla e tanto non se ancora oggi ha delle cicatrici all'altezza della tempia quindi è lampante che piccolomo talvolta si arrabbiasse per delle stupidate mentre altre volte riusciva ad essere il migliore dei padri era anche molto protettivo sembrava avesse una doppia personalità in pratica da come lo descrivono le figlie inoltre Giuseppe aveva raccontato alle figlie nei minimi dettagli come il corpo della madre si fosse man mano deteriorato tra le fiamme al momento dell'incidente più precisamente aveva spiegato a Nunzia che prendeva a pugni il vetro del finestrino e la sua pelle rimaneva attaccata al vetro poi aveva aggiunto che si stava sciogliendo come una candela le figlie a questo punto gli avevano chiesto ma è morta subito vero? non ha sofferto Giuseppe aveva risposto con decisione no non ha sofferto è stata tra le fiamme circa 5 o 6 minuti più o meno ebbene 5 o 6 minuti è un tempo eterno la povera Marisa deve aver sofferto terribilmente ma quale uomo racconterebbe una cosa del genere alle proprie figlie? solo un uomo senza cuore mi verrebbe da dire ovviamente è quasi superfluo sottolineare pure che Giuseppe era un traditore e sua moglie l'aveva sempre scoperto erano sempre scoppiati i grandi liti ma alla fine non si erano mai lasciati però è anche vero che Marisa non chiedeva il divorzio principalmente per le sue figlie per tenere la famiglia unita anche se che famiglia forse sarebbe stato meglio prendere le distanze in ogni caso Marisa nonostante la scelta di non lasciare Giuseppe aveva paura di lui spesso chiedeva a qualche vicino o a qualche amica di famiglia di rimanere con lei nel ristorante per aspettare anche l'arrivo di Giuseppe principalmente perché aveva paura di come si sarebbe potuto comportare piccolo uomo all'interno della coppia faceva ciò che voleva anche perché Marisa Maldera non era né possessiva né gelosa ma anzi era tollerante e remissiva ma allora cosa spinge l'imputato ad ucciderla? secondo l'accusa entra in scena proprio nell'ultimo periodo una giovane donna che provoca in Giuseppe il desiderio e la necessità di liberarsi della moglie infatti ultimamente al ristorante lavorava come lavapiatti una giovane di origini marocchine di nome Talì Zineb questa ragazza era davvero giovane nel senso che aveva la stessa età di Cinzia ossia la figlia di Giuseppe era una ragazza molto esile sembrava addirittura più giovane della sua età Nunzia aveva già una figlia di 7 anni e una di 11 mesi ma la ragazza nonostante avesse 3 anni in meno di Nunzia sembrava indifesa in un certo senso aveva ancora un'aria da adolescente all'inizio andava tutto bene ma poi Giuseppe si era invaghito di questa ragazza Nunzia ricorda una situazione in cui la ragazza era stanca aveva male i piedi e Giuseppe l'aveva invitata a sedersi e a riposarsi per poi andare lui stesso a lavare i piatti si annunzia che Cinzia sostenevano che questa cosa Giuseppe non l'avesse mai fatta prima non avevano visto mai il padre lavare i piatti al ristorante o a casa nonostante Marisa la moglie di Giuseppe avesse un grosso problema a un piede aveva delle microfratture per un anno aveva avuto un'ulcera aperta ma non si era mai tirata indietro quando bisognava andare a lavorare Marisa lavorava saltando su un piede piuttosto ma non aveva mai rinunciato a un solo giorno di lavoro Giuseppe anche se la vedeva zoppicare sia in casa che al ristorante mai si era offerto di aiutarla o di lavare i piatti ma neanche una volta Marisa inoltre era molto attaccata a questa ragazza la vedeva come una figlia ma Giuseppe no non la vedeva come una figlia affatto quando c'era qualche ragazzo che arrivava e iniziava a scherzare con lei Giuseppe si arrabbiava andava dietro alla pizzeria sbatteva gli stracci dava calcio al muro era davvero molto geloso e questa situazione era sotto gli occhi delle sue figlie ma anche tante persone che frequentavano il ristorante si erano accorte della morbosità che gli si sviluppava nei confronti della ragazza tante volte lei era al bancone quindi doveva intrattenere in qualche modo i clienti ma lui si arrabbiava sempre in pratica da quando questa ragazza era stata assunta andavano sempre in giro insieme Giuseppe Marisa e lei Giuseppe ovviamente ripeteva sempre che per lui Talì era come una figlia molti sostenevano di aver visto in più occasioni Giuseppe Piccolomo accompagnare a casa Talì e trattenersi con lei in macchina per una mezz'ora abbondante e a questo punto spunta fuori il possibile movente Talì non avrebbe mai potuto sposare un uomo divorziato a causa della sua religione ma un vedovo invece sì ed è qui che secondo l'accusa si delinea la motivazione per cui Marisa Maldera fosse finita tra le fiamme prima del funerale di Marisa Giuseppe aveva detto alle sue figlie io non posso stare da solo è normale che tra qualche mese io voglia trovare un'altra donna e perché devo andare a cercarne un'altra quando ho già qua la marocchina stendo un velo pietoso su Giuseppe in ogni caso perché anche questa frase è aberrante ma procediamo i due infatti dopo pochi mesi avevano cambiato le serature della casa non avevano permesso alle figlie di mettere più piede lì liberamente di fatto tali si era appropriata di ciò che aveva creato in 48 anni Marisa un paio d'anni dopo si sono sposati e poi hanno anche messo al mondo due figli quando Marisa era morta nessuno aveva lavorato al caso non era stata svolta neanche mezza indagine era stato inizialmente archiviato come incidente stradale Cinzia era disperata si descriveva come una larva che voleva solo morire poi un giorno si era detta Cinzia alzati e reagisci era partita da un fatto che lei conosceva bene suo padre non faceva niente per niente inoltre aveva stipulato diverse assicurazioni era particolarmente interessato a questo ambito così Cinzia aveva preso in mano il telefono e aveva chiamato tutti gli uffici della zona finché aveva rintracciato le assicurazioni in cui c'erano delle polizze a nome di Marisa Giuseppe aveva varie assicurazioni ma ce n'era una che era stata modificata il 6 dicembre 2002 in pratica solo in caso di incidente stradale la polizza sarebbe triplicata alla vista della firma di Marisa sulla polizza assicurativa entrambe le sorelle piccol'uomo sostengono che quella non era davvero la firma di loro madre ma purtroppo non trovano niente per poterla confrontare se fossero riusciti a dimostrare che la firma di Marisa era falsa questo dato sarebbe valso come l'arma vincente in mano all'accusa sia per l'omicidio che per la premeditazione inoltre sempre sulla scia dell'interesse economico e dell'avidità di Giuseppe Piccolomo era stato raccontato in aula come dove era finita l'eredità di Marisa Giuseppe Piccolomo in questa circostanza aveva portato nelle proprie tasche circa 400.000 euro sembrava dunque che il tutto fosse davvero premeditato Giuseppe avrebbe condotto la sua nuova vita con la ragazza per cui aveva perso la testa l'avrebbe sposata avrebbe creato con lei una famiglia e per fare ciò aveva tolto di mezzo sua moglie guadagnando dei soldi tramite la sua assicurazione c'è però un'ennesima domanda a cui dare risposta per dimostrare la colpevolezza dell'imputato ossia secondo la tesi accusatoria Piccolomo aveva cosparso la macchina di benzina poi gli aveva dato fuoco ma perché Marisa non si era ribellata? la risposta era stata trovata nei campioni biologici della vittima su cui erano state fatte delle nuove analisi era emerso che nel sangue di Marisa erano presenti tracce di un forte tranquillante per l'esattezza era stato identificato dell'orazepam ossia una benzodiazepina era stata quindi identificata la presenza del farmaco ma la quantità rinvenuta era al di sotto dei livelli terapeutici ebbene sappiate che Marisa Maldera non faceva uso di sonniferi non ne aveva proprio bisogno lavorava così tanto che si addormentava con molta facilità a questo punto si apre un altro capitolo molto doloroso Cinzia e Nunzia le figlie di Giovanni Piccolomo sostengono che il padre fin da quando erano piccole era in un certo senso fin troppo invadente con loro non era mai andato fino in fondo maimè allungava le mani si infilava nel loro letto e si toccava e cose del genere Nunzia sostiene di essere stata oggetto di attenzioni indesiderate anche la notte in cui sua madre era in ospedale per partorire suo fratello Marisa quando era a casa aveva il sonno pesante di conseguenza non si accorgeva di nulla purtroppo inoltre Giuseppe era solito minacciare le figlie e Marisa con un coltello o ancora con un'ascia Giuseppe non si interessava molto del rendimento scolastico delle sue figlie ma se per caso qualche volta vedeva sul loro diario o sul loro libretto scolastico dei brutti voti tirava fuori la cinghia per colpire entrambe spesso se i brutti voti erano più di uno le trascinava verso la zona della lavanderia in casa e mentre le picchiava gli toglieva anche i vestiti un giorno Nunzia stanca di queste situazioni aveva raccontato tutto a sua madre Marisa era rimasta senza parole aveva chiesto a sua figlia di raccontarle quella storia più e più volte quando Giuseppe era tornato dal lavoro Marisa lo aveva affrontato gli aveva spiegato che Nunzia le aveva raccontato tutto Giuseppe aveva negato ogni cosa aggiungendo che Nunzia se lo era inventato e che da quel giorno in poi ogni volta che rientrava a casa Nunzia doveva essere sbattuta fuori Marisa gli aveva risposto che avrebbe preso i suoi figli e sarebbe tornata dai suoi genitori in Puglia Giuseppe le aveva detto allora prima ammazzi i bambini e poi ammazzo te a questo punto Marisa voleva davvero chiedere il divorzio e ne aveva parlato con Giuseppe e quest'ultimo prima l'aveva picchiata poi le aveva detto vuoi che ti ammazzo? vuoi che le cresca io le bambine? di base piccolo uomo ha sempre pensato a se stesso e in modo egoistico si è soffermato soltanto su ciò che voleva lui non ha capito che quel giorno uccidendo sua moglie ha distrutto la sua vita e ha sfasciato una famiglia sulla conclusione di questo processo ci torneremo alla fine della storia perché ora è giunto il momento di parlare del secondo delitto attribuito a Giuseppe Piccolomo è giovedì 5 novembre 2009 quando Carla Molinari di 82 anni viene trovata nella sua abitazione a Cocquio Trevisago in provincia di Varese precisamente in via Dante Alighieri senza vita e con le mani mutilate ma chi è Carla Molinari? è una donna molto affabile ha trascorso una parte della sua vita in Francia era andata a vivere a Saint-Sierre-sur-Mer una cittadina della costa azzurra suo padre Angelo era partito per la Francia alla fine della prima guerra mondiale aveva una piccola impresa edile che gli consentiva di vivere agiatamente la sua era un'infanzia felice la scuola le amiche le passeggiate in bicicletta e anche se aveva vissuto a Saint-Sierre-sur-Mer solo per una piccola parte della sua vita nel suo cuore quello era ancora il suo paese i francesi erano ospitale i rapporti con gli italiani erano buoni poi era arrivata la guerra il 21 giugno del 1940 confidando nella sconfitta ormai totale della Francia Mussolini aveva ordinato alle divisioni presenti in Piemonte e Liguria di attaccare la costa azzurra con l'obiettivo di occupare il territorio francese sino a Nizza si era così creata una situazione imbarazzante per i tanti italiani che lì lavoravano da anni ben inseriti nel contesto sociale la signora Carla in un'intervista racconta bustano alla porta di casa aprite polizia aprite i miei genitori hanno aperto e hanno portato via il mio papà papà è stato fatto prigioniero dai francesi per un mese o un mese e mezzo poi l'hanno lasciato andare è stato davvero un momento molto difficile quell'esperienza aveva turbato molto i suoi genitori che avevano cominciato a valutare la possibilità di tornare in Italia era stata una decisione sofferta e non sapevano come affrontarla il padre di Carla era andato da un prete per chiedere consiglio era andato al consolato ma nessuno sapeva dirgli se per lui fosse meglio rimanere o rientrare in Italia tanti italiani che conoscevano erano rimasti avevano firmato chiedendo di restare suo padre alla fine invece aveva deciso di tornare in Italia il motivo del suo arresto non era mai stato chiarito si diceva che l'Italia avesse pugnalato alle spalle la Francia il clima dunque non era certo sereno quando era quasi diciottenne Carla dopo la guerra era ritornata in Francia con i suoi genitori questa volta avevano scelto di trasferirsi nel nord-est a Saint-Dieu-de-Vosges dove il padre aveva ripreso la sua attività di muratore ma non più in proprio Carla ormai adolescente rimpiangeva il bel clima della costa azzurra specialmente quando il freddo vento del nord soffiava impetuoso e a dirla tutta lo rimpiangeva anche negli ultimi anni della sua vita che aveva trascorso nella sua bella casa di Cocquio vi abitava da quando il padre sessantenne ormai in pensione era voluto tornare a vivere in Italia ebbene Carla Molinari giovedì 5 novembre 2009 sarebbe stata uccisa per mezzo di un'arba da taglio con cui l'assassino l'avrebbe sgozzata e le avrebbe mutilato le mani le mani non verranno mai ritrovate nella casa secondo quanto riferito c'era una grande confusione cassetti aperti e oggetti per terra la donna tipografa in pensione viveva da sola e giovedì sera i vicini avevano notato una finestra della villetta aperta avevano immediatamente pensato a un furto era intervenuto per primo il 118 che aveva trovato il cadavere dell'anziana all'interno della casa sul posto era poi arrivata la squadra mobile di Varese che indagava sull'omicidio assieme al servizio centrale operativo della polizia i rilievi erano stati compiuti dalla scientifica di Milano secondo quanto era stato accertato fino a quel momento la vittima non aveva parenti che abitavano nelle vicinanze nelle prime ore successive al delitto non era stato possibile stabilire se dalla villetta fossero stati sottratti oggetti di valore la donna poteva essere stata uccisa da un ladro sorpreso in casa ma al momento non fu possibile escludere altri moventi i vicini ovviamente avevano riportato ciò che avevano visto Rodolfo Stocco aveva detto in un'intervista stavo tornando a casa quando mi sono accorto che la finestra della casa di Carla era aperta così ho avvisato mia moglie e abbiamo dato l'allarme Rodolfo aveva continuato dicendo Carla teneva le finestre chiuse già dalle 5 del pomeriggio e già alcune ore prima ci aveva chiamati un'amica della donna che non riusciva a contattarla al telefono quando ho visto le finestre aperte ho avvisato mia moglie Emma lei ha chiamato i parenti della donna che abitano a Gavirate e insieme siamo andati sul posto l'unico ad aver visto la donna è il giovane nipote che ha sollevato la tapparella per entrare mentre noi restavamo davanti al cancello Emma Stocco la moglie di Rodolfo aveva descritto Carla come una signora gentile e riservata che non aveva nemici poi aveva aggiunto so che in casa di Carla c'erano molti oggetti di valore era una donna di fede discreta e con molte amicizie anche il parroco di Cocchio Trevisago Don Erde Simeoni si diceva sconvolto per quanto accaduto verso la fine di novembre ecco che era arrivata una svolta nel giallo dell'omicidio di Carla Molinari in quanto un uomo era stato posto in stato di fermo quell'uomo era Giuseppe Piccolomo di 58 anni all'epoca di professione faceva l'imbianchino a quanto si era saputo il presunto assassino e Carla Molinari si conoscevano da tempo avevano avuto una relazione gli investigatori stavano ricostruendo nel dettaglio la natura dei loro rapporti e le ultime ore di vita dell'ex tipografa e della persona accusata di averla uccisa a carico del fermato c'erano impronte di scarpe sul luogo del delitto e gli spostamenti del suo telefono cellulare gli sarebbero inoltre stati riscontrati graffi sul volto frutto forse di una collutazione l'uomo appassionato di CSI e altri telefilm del genere avrebbe tagliato le mani all'anziana perché sotto le unghie di lei era rimasto il suo materiale genetico l'unico precedente di questo genere era avvenuto negli Stati Uniti e se ne parlava in una puntata della serie tv investigatori e inquirenti non avevano fatto cenno al possibile movente del brutale omicidio quel che era certo è che lo ritenevano premeditato a tradire l'indagato come anticipato sarebbero state proprio le numerose impronte di scarpe trovate sulla scena del delitto erano in tutta casa escluso il bagno scarpe da ginnastica di numero non grande ossia 38-39 lo stesso della vittima e del presunto assassino piccolo di statura quelle impronte sembravano seguire traiettorie senza senso in alcuni punti erano appaiate come per la conseguenza di un salto erano così inspiegabili da far pensare a un apposito depistaggio ipotesi valida anche per i quattro mozzicone di sigaretta senza cenere ritrovati per terra erano di quattro marche diverse e la vittima non fumava così come avrebbe potuto essere indice di un depistaggio la cerniera slacciata dei pantaloni di lei forse per indurre a sospettare di una violenza oppure le carte lasciate sui cassetti e la cura sistematica nello svuotarli tutti come se si volesse suggerire la teoria di una rapina o di un furto in casa non c'erano altri segni di disordine o collutazione a parte uno sgabello per terra accanto alla donna l'assassino aveva allacciato la cerniera del maglioncino di Carla prima aperto perché sul davanti non c'erano segni dell'oggetto appuntito con cui era stata colpita 15 volte un amico di famiglia aveva riferito che Carla Morinari il cui patrimonio montava circa 500.000 euro stava per fare testamento infatti era già andata a incontrare un notaio e la madre dell'amico di famiglia l'aveva accompagnata voleva lasciare una parte dei suoi averi ad alcuni parenti ma non tutto perché diceva che erano già persone benestanti una parte invece voleva lasciarla alla chiesa un'altra parte ancora la voleva destinare a un campo che possedeva a Caldana una frazione di montagna e nello specifico alla signora che per tanti anni le aveva tenuto le chiavi di casa a cui era riconoscente e a cui era fortemente legata Giuseppe Piccolomo a questo punto entra prepotentemente nella nostra storia come già sapete nel 2003 era stato indagato per la morte della moglie avvenuta in circostanze piuttosto strane carbonizzata dentro l'auto condotta dal consorte che aveva detto di essere riuscito a scendere prima che le fiamme avvolgessero il veicolo aveva detto di aver appena fatto il pieno e di aver riempito anche una tannica di benzina e che la moglie si era accesa una sigaretta all'epoca era stato indagato per omicidio colposo ma poi aveva patteggiato la pena infatti il processo che vi ho raccontato all'inizio del video è solo del 2019 nonostante il fatto sia accaduto molti anni prima dunque Giuseppe in seguito aveva sposato una giovane marocchina che aveva lavorato anche in casa di Carla Molinari e non solo nel suo ristorante come lavapiatti con lei ossia Tali aveva messo al mondo due figli ultimamente aveva aperto un'impresa e di lei che aveva accumulato proteste per cambiali non pagati e assegni scoperti sicuramente conosceva bene la vittima e sapeva che aveva da parte un discreto patrimonio residente a Ispra in provincia di Varese Giuseppe Piccolomo viene descritto dai vicini come un appassionato di indagini scientifiche legate ai delitti tanto che dicono sempre vicini e conoscenti non si perdeva mai serie televisive quali CSI Criminal Minds senza traccia col case ris delitti imperfetti e così via e come detto forse proprio da un episodio di queste fiction potrebbe aver preso spunto per mettere in atto il suo piano omicida secondo gli investigatori le sue mosse sarebbero state ben pianificate tanto che l'uomo viene accusato di omicidio premeditato aggravato dalla brutalità oltre che dai futili motivi che paiono essere di tipo economico un conoscente dell'uomo tra i clienti dello stesso bar del centro commerciale di Cocquio di cui Giovanni Piccolomo era un assiduo frequentatore racconta che il presunto assassino ironizzava su quella cosa là sul taglio delle mani diceva agli amici attenti che vi taglio le mani dagli uffici della questura di Varese Giuseppe Piccolomo esce la sera di giovedì 27 novembre è un uomo tarchiato ha i capelli grigi e la barba di qualche giorno indossa un giubbotto arancione è ammanettato e cerca inutilmente di coprirsi il volto per ripararsi da telecamere flash dei fotografi il giallo ovviamente aveva destato tanto raccapriccio il sindaco aveva infatti istituito un apposito servizio gratuito di assistenza con due psicologi per i residenti dopo 21 giorni finalmente pare che l'indagine sia arrivata alla svolta decisiva il caso sarebbe stato risolto le indagini sulle impronte delle scarpe rinvenute nella villetta di numero 38 sono compatibili con la figura di piccolomo che è piccolo di statura ma ai fini investigativi risulta prezioso anche l'apporto di una testimone una donna sentendo al tigil il dettaglio dei mozzicconi lasciati qua e là nella villetta degli orrori si è ricordata ad aver visto Giuseppe Piccolomo proprio qualche ora prima del delitto trafficare con un posacenere in un locale pubblico colta da un tremendo dubbio è andata a raccontare il dettaglio agli uomini della squadra mobile è cominciato così un attento monitoraggio nei confronti di Giuseppe Piccolomo fino a raccogliere quegli elementi inequivocabili che secondo gli investigatori lo inchioderebbero alle sue responsabilità fra queste le riprese della telecamera di sorveglianza del locale che lo inquadrano mentre raccoglie i mozziconi dal posacenere nel febbraio del 2010 si tengono i funerali di Carla Molinari ecco i sentimenti vissuti dal paese nel quale si celebrano i funerali iniziamo dalla paura nelle ore immediate al delitto si ipotizzava che il colpevole fosse un maniaco e o un mostro gli anziani dunque si barricano in casa nelle ore serali scatta una sorta di coprifuoco i farmacisti del paese lamentano un aumento di richieste e di vendita di ansiolitici la paura poi diventa fastidio i vicini di casa vengono presi d'assalto da curiosi e giornalisti davanti alla villetta inizia un macabro tour dell'orrore il fastidio a sua volta si trasforma in allerta la giunta comunale annuncia che saranno istituite delle ronde se ne occupa il consigliere delegato alla sicurezza che è anche il responsabile della sicurezza del centro commerciale e gli intenti di rassicurazione della popolazione si intrecciano quindi con le indagini le ronde non sono ancora partite quando dall'allerta si passa il disincanto giuseppe piccolomo detto pippo è una star a suo modo nel centro commerciale la vera piazza di cocquio trevisago tutti sono a conoscenza del suo passato della moglie morta nei bar dove avrebbe raccolto i mozziconi gettati in casa di carla per depistare le indagini tutti ricordano la giacca beige le scarpe bianche la bottiglia d'acqua che tiene sempre in tasca a volte irrascibili altre volte esibizionista con il suo modo di parlare a voce alta e poi di litigare per un non nulla molti in paese sono convinti della sua colpevolezza un po' per la vicenda oscura della morte della moglie bruciata viva in auto un po' perché da tempo era alla disperata ricerca di soldi nel 2011 la corte d'assise presieduta dal giudice Ottavio D'Agostino ha deciso Giuseppe Piccolomo è stato condannato all'ergastolo come richiesto dal PM Luca Petrucci la difesa dell'uomo aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato la corte ha riconosciuto l'omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà e ha ricompreso il capo B dell'imputazione ossia il vilipegno di cadavere dell'omicidio stesso i giudici hanno poi optato per l'isolamento diurno di sei mesi e stabilito la revoca della potestà genitoriale mentre non hanno infierito con il sequestro della casa di Ispra Nunzia e Cinzia le figlie dell'imputato commentano per noi è un giorno di festa è stata fatta giustizia perché siamo sempre state convinte che il nostro padre fosse colpevole più tardi Nunzia Piccolomo aggiunge sono contenta perché io da oggi non ho più paura ora riuscirò finalmente a dormire la notte mentre il presidente della corte leggeva il dispositivo della sentenza in aula era risuonato un forte applauso l'avvocato difensore Simona Bettiati dal canto suo ha commentato rispetto alla sentenza ma non la condivido ragioneremo sul ricorso Giuseppe Piccolomo commenta è una sentenza bugiarda e lo sanno benissimo anche loro a che ora è morta la vittima c'aveva ancora la digestione nella pancia e loro lo sanno il sangue sul coltello gli chiedono i giornalisti ce l'hanno messo loro perché non avevano niente risponde l'uomo loro chi chiedono i giornalisti beh quelli che hanno fatto le indagini risponde Giuseppe Piccolomo Pippo punta l'indice verso il banco della pubblica accusa e continua i graffi in faccia me li sono fatti cadendo nel mio terreno per la squadra mobile di Varese che ha condotto le indagini con il servizio centrale cooperativo di Roma e la scientifica di Milano è un successo storico in aula era presente uno degli ispettori che avevano condotto l'inchiesta Antonio Magazzu la valutazione della corte d'assise e anche un premio al loro lavoro nonostante Giuseppe Piccolomo li abbia esplicitamente accusati in aula di aver truccato le carte torniamo a questo punto all'omicidio della sua prima moglie come già detto Piccolomo aveva patteggiato per omicidio colposo proprio la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Carla Molinari aveva aperto la strada a un nuovo processo sulla morte della prima moglie di Giuseppe Piccolomo Marisa Maldera solo nel 2018 si era arrivati alla riapertura del caso e una seconda condanna a carico di Piccolomo che prevedeva sempre l'ergastolo per il delitto della moglie ma ecco che nel 2021 viene annullata in appello la condanna all'ergastolo per la morte della moglie in quanto non si può processare due volte un cittadino già condannato per il medesimo fatto è un caso di improcedibilità una regola del nostro diritto ed è con questo ragionamento che i giudici della prima sezione della corte d'assise d'appello di Milano hanno deciso Giuseppe Piccolomo non andava riprocessato per l'omicidio volontario della moglie Marisa Maldera avvenuto nel 2003 era stato un omicidio ma colposo frutto cioè di un incidente stradale premeditato Giuseppe Piccolomo però aveva giovato di un accordo tra le parti ossia un patteggiamento per la pena di un anno e tre mesi nel 2006 le figlie di Piccolomo parti civili del processo e principali testimoni Nunzia e Cinzia Piccolomo si dicono tramite il loro legale sconcertate e incredule per la decisione della corte meneghina di cancellare l'ergastolo tardivo perché pensavano di aver dato giustizia alla loro mamma detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo caso conoscevate Giuseppe Piccolomo già ve ne ho parlato per il delitto di Lidia Macchi se vi ricordate ma cosa ne pensate di questo personaggio io credo che sia davvero tremendo conoscevate la sua storia sapevate che era stato condannato all'ergastolo e poi quella condanna era stata annullata io sono davvero curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti